Al via oggi l'ottava edizione della Summer School organizzata da Enimed con il patrocino del Comune di Gela in collaborazione con la Fondazione Enrico Mattei e ShipLab. Il corso gratuito è rivolto a laureati o laureandi e si terrà fino a venerdì 15 luglio prossimo presso la Pinacoteca Comunale. L'obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo dei sistemi economici locali con particolare riferimento ai servizi innovativi, alle PMI nei settori marketing, i business e nuove tecnologie della comunicazione attraverso la diffusione di competenze che possono stimolare l'innovazione e facilitare l'apertura ai mercati internazionali. Il tema centrale è quello del territorio, è sviluppare competenze per il territorio, anche non forse sviluppare rato come termine ma è stimolare le competenze per poi sviluppare progetti sul territorio. E così come è successo negli anni scorsi, questo tipo di formazione serve a risvegliare, stimolare interessi dei giovani, voglio di fare così come è successo appunto due anni fa che si è creata l'associazione ShipLab che poi tanto dato sul territorio addirittura ha portato il Comune di Gela a Expo 2015, quindi la miglior piazza del mondo. Questa edizione della Summer School ci vede protagonisti dopo essere stati fruitori per svariate edizioni, due anni fa siamo diventati l'associazione, quello che siamo adesso ShipLab, quest'anno siamo partner della Summer School, partner di FEM, di Enimed, cureremo alcuni interventi, alcuni seminari su appunto sugli sviluppi di competenze e territorio, come le nostre competenze possono portare sviluppo, innovazione al territorio.